Sì, è stata una partita, quelle classiche di fine stagione, se non fosse che invece erano punti importantissimi sia per noi che per il Pescara. Noi abbiamo subito quel gol, quel gran gol di Galano, potevamo pareggiarla subito con Carraro con quel colpo di testa, però poi ci siamo disuniti in maniera incredibile, abbiamo subito il 2-0 e è stato bravo Vicario a salvare il 3-0. Però poi dopo c'è stata una reazione vera, abbiamo creato diverse opportunità e non a caso ci sono venuti fuori due gol, insomma abbiamo colpito una traversa, c'era un rigore a mio giudizio abbastanza chiaro su Mazzocchi, non ci è stato fischiato. Secondo tempo i primi 20 minuti uguali, forse eravamo quelli che meritavano di passare in vantaggio, due volte è stato bravo Fiorillo, anche l'occasione di quel palo, poi è chiaro i minuti passavano, credo che a quel punto abbiamo necessariamente dovuto fare riferimento a quelle che erano le forze, a quello che si giocherà tra due giorni, quindi un viaggio lunghissimo che ci porterà a Cosenza, quindi sarebbe stato perdere questa partita, ma sia per noi, ma credo che anche per il Pescara sarebbe stato troppo pesante, quindi per noi è comunque un punto importantissimo perché ci mantiene nei confronti del Pescara un punto di vantaggio, anzi sono due per gli scontri diretti a nostro favore, quindi c'è solo da recuperare e pensare alla partita di Cosenza. Come spiega il blackout? La prima mezz'ora è una sfida quasi indecisiva? La spiego con il fatto che sbagliavamo, cioè il Pescara si era rinchiuso bene nella propria metà campo e utilizzava gli inserimenti di Galano, di Pucciarelli e noi eravamo troppo alti con la linea difensiva e subivamo queste situazioni, quindi era un blackout tattico ma derivato anche dal fatto che facevamo degli errori troppo banali, insomma, quindi purtroppo sembra assurdo doverlo dire, però in queste condizioni atmosferiche, in queste condizioni partite ravvicinate, si vedono degli errori che non dico che non succedono, che non succedono con questa facilità. Bella era la reazione sul 2-0 del Pescara, buono il ritorno del gol di IML, ancora una volta un po' di errori in fase conclusiva. Sì, soprattutto il secondo tempo, perché lì abbiamo avuto veramente due o tre opportunità glamorose, però è stato bravo anche Fiorillo, l'arbitro non ha accordato il calcio d'angolo, però lì Fiorillo sul tiro di Merchiorri ha fatto un'altra parata, sfortunato in occasione sul cross di Mazzocchi, anche la palla messa indietro da Rosi, era una palla bellissima se fossimo stati lì a ricevere, però credo che sia noi che Pescara avremmo potuto per una sconfitta recriminare Pescara per essere andato in vantaggio, noi per aver recuperato e magari avuto l'occasione per poterla vincere. L'ingresso di Buonaiuto ha cambiato la partita? Sicuramente ha fatto cose importanti, è chiaro che ci siamo messi 3-4-1-2, perché non riuscivamo a riuscire, abbiamo guadagnato qualcosa, abbiamo perso una fase difensiva, abbiamo perso qualcosa perché mentre per Assurdo il primo tempo loro non arrivavano con facilità sugli esterni, con quel sistema di gioco che richiedeva ai due attaccanti di giocare sui terzini avversari, abbiamo sofferto più, però un buon aiuto è stato a mio giudizio determinante. Ha avuto o no le risposte che cercava la squadra? No, ma è inutile tanto questa squadra che ha perso tante e troppe occasioni, come ho detto, quindi adesso è fondamentale anche in virtù dei risultati delle altre squadre fare più punti possibili, poi dopo ci sarà modo per poter discutere su altre situazioni, adesso non c'è neanche tempo per chiacchierare.